va ora in onda la rassegna stampa un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da giulio cainarca bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa sono le ore 7 e 31 siamo in perfetto orario più o meno sono le 7 e 31 di giovedì 1 dicembre e vi ricordo il sito di radiolibertà.net con tutto quello che serve anche a noi prima pagina dell'agenzia ansa andiamo subito rapidamente poi vedremo le prime pagine dei quotidiani di oggi sul sussidiario.net un articolo che riguarda Andrea Costantino che avremo con noi come tutti i giorni alle 8 e 30 a metà della rassegna stampa insieme alla compagna Stefania Giudice faremo il punto della situazione in attesa del ritorno a Milano dell'imprenditore che è ancora prigioniero in Emirati Arabi Uniti. Su famiglia e imprese il governo apre a calenda e l'apertura dell'agenzia ansa e le parole di Renzi. Surreali le crisi